Che cosa ha deciso il Consiglio Comunale di Bari in merito allo Stadio San Nicola? Ha deciso una cosa molto importante che è la candidatura della struttura ad un bando che permette di conseguire un mutuo a tasso zero per un importo fino a 6 milioni di euro e per la parte eccedente a un tasso estremamente competitivo. Questa candidatura permetterà di porre in essere alcuni interventi fondamentali di manutenzione straordinaria che riguarderanno il ripristino della copertura dello stadio, l'efficientamento energetico con la conversione dell'impianto di illuminazione a un impianto a LED in grado di fornire quei livelli di illuminamento ottimali anche per le riprese televisive e serali e come terzo intervento avremo quello del completamento della dotazione dei seggiolini all'interno dello stadio. Sono tutti interventi che permetteranno al Bari Calcio di poter espletare i campionati anche di categorie diverse. Ci auguriamo già da subito, già dal prossimo campionato, ma anche di poter far disputare nella nostra città eventi internazionali, cosa che è già accaduta negli anni precedenti. Qual è l'iter complessivo, come è nato e come si concluderà? Abbiamo esaminato tutte le possibili soluzioni che erano sul campo. In prima battuta abbiamo ragionato con l'autore dello stadio, con lo studio piano, per cercare di capire quali erano le condizioni per poterlo riqualificare con una ristrutturazione importante, ovviamente conservandone la forma fondamentale. Quest'operazione comportava però una riduzione sensibile dei posti a disposizione. Saremmo passati da uno stadio da oltre 50.000 posti a uno stadio sotto i 30.000 posti. Il numero era significativamente inferiore, parliamo di circa 24-26.000. Circostanza che non è sicuramente in linea con quelle che sono le necessità della nostra città. Basti pensare che una semplice partita di Serie C ha richiamato allo stadio già 20.000 persone. Figurarsi cosa può accadere all'interno di una competizione di Serie B o addirittura di Serie A. Ragion per cui abbiamo immaginato di dover mettere in atto quegli interventi di manutenzione che sono ormai indispensabili e improcastinabili anche per consentire allo stadio di poter essere utilizzato già dai prossimi campionati, magari in una Serie Cadetta maggiore. Da qui la necessità di completare i teli di copertura, cioè di ripristinare quei teli che il tempo dopo 30 anni di vita ha portato via per naturali conseguenze correlate alla vetustà dei teli. Ovviamente con teli di lungo respiro che danno delle garanzie almeno di 25 anni e che conservano l'estetica dello stadio. Stessa operazione è stata fatta anche con i seggiolini perché la qualità dei seggiolini che abbiamo preso in considerazione è una qualità di altissimo livello, oltre che rispondenti agli obblighi in normativa che ormai impongono una quantità di seggiolini che è in proporzione alle serie in cui ci si scrive. Ultimo dato importante era quello dell'illuminazione, anche questo un dato che è diventato fondamentale soprattutto negli ultimi tempi con le necessità correlate alle riprese televisive notturne e quindi la sostituzione del vecchio impianto ormai obsoleto con un nuovo impianto con grandi prestazioni di efficientamento, quindi un impianto a LED con gradi di illuminamento decisamente elevato. Questo intervento permetterà anche di sostituire il tabellone che è presente, i due tabelloni, con un tabellone di nuova generazione e quindi avremo uno stadio moderno nell'arco orientativamente di circa un anno grazie a questi interventi che sono stati approvati dal Consiglio Comunale come candidatura al credito sportivo. Quale sarà l'importo complessivo? L'importo complessivo massimo iniziale è di 11 milioni e mezzo. Noi confidiamo, dopo aver espletato le gare di appalto, di conseguire un significativo ribasso d'asta e questo significativo ribasso d'asta permetterà poi di perfezionare a regime un mutuo che avrà un importo significativamente minore di quello iniziale di 11 e mezzo. È possibile ipotizzare dei tempi per la conclusione di tutti questi lavori? Verosimilmente tutto il 2022 e forse una coda anche nel 2023. Immaginate che in questo periodo abbiamo grossissime difficoltà con l'approvvigionamento dei materiali. È una criticità che riguarda tutto il mondo delle costruzioni di cui siamo ben consapevoli ed è difficile anche fare previsioni. Però 2022, massimo qualche mese del 2023, ci sembra una previsione attendibile. Per quanto riguarda il restyling c'è stata la novità del colore dei seggiolini rispetto al progetto originario. Invece per quanto riguarda i teli saranno esteticamente uguali? Si erano fatti delle ipotesi di progetto con dei pannelli solari in passato? Sono stati scartati? Sì, il telo di copertura sarà bianco come quello esistente. Per i seggiolini aggiuntivi continueremo con questa scia molto gradita del bicolore che richiama i colori della società. Relativamente invece alla composizione materica della copertura, la soluzione con pannelli fotovoltaici è stata scartata per tanti motivi. Tra questi, quello fondamentale è legato proprio alla convenienza economica del fotovoltaico che oggi non consente più di avere convenienza nel produrre energia elettrica e nel riversarla nella rete. Diventano convenienti gli impianti fotovoltaici quando si è in presenza di strutture energivore che consumano molta energia elettrica, non è il caso dello stadio San Nicola. Fra l'altro avremmo un altro problema importantissimo. L'uso di una copertura che ha un peso a metro quadro superiore a quello di un telo in teflon o similare comporterebbe una verifica strutturale di quelle strutture che reggono la copertura con costi imponenti e con un appesantimento notevole del procedimento che ne farebbe aumentare in maniera significativa i costi e ne rende molto più complicata l'esecuzione.